Ciao a tutti, sono Nicolò, buongiorno, sono qua a presentare il mio film Songs of the Water Spirits che è un viaggio, un'avventura che ho fatto personalmente un'esplorazione nel contesto delle grandi montagne del nostro pianeta, l'Himalaya ho viaggiato nel nord dell'India, in una regione che si chiama Ladakh per cercare di raccontare quest'epoca di grandi trasformazioni soprattutto nel contesto delle culture locali ci sono diversi personaggi e racconto come una specie di mosaico nel mio film che cercano di interpretare il momento storico che stiamo vivendo questo momento di grandi trasformazioni appunto è un momento, sappiamo, dove il tema dell'ecologia, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici è centrale e nel mio film racconto delle forme nuove per cercare di vivere la nostra contemporaneità che non guardano al passato soltanto e cercano di combinare il passato e il futuro quindi cercando una nuova via ecco, il mio film racconta, cerca di raccontare questo momento storico che stiamo vivendo auguro a tutti una buona visione grazie a tutti grazie a tutti